Grazie, e se dopo questa non siete andati via potete reggere tutto il resto, diciamo. Ah, ah, ah. Un attimo di pazienza. No, Nicola, non cambia che darlo, te prego. Gocciolina di sudore. Anzia. Ma vai tranquillo, aspetta, non mi hanno fatto il biglietto. Arriviamo ora, Angela, che non mi è piaciuta. Ah, qui c'è la censura. No, non si può. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti